Ora respira profondamente e lentamente Oggi Chiara andrò a fare un trattamento rilassante Vado prima a struccarti la pelle Poi detergo, faccio una scrappa E massaggio rilassante e intrinante Poi maschera e crema finale Perfetto 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perfetto, dopo aver struccato bene, finisco adesso a detergere. Utilizzo questo detergente schiumogeno che è indicato bene per le pelle miste, grasse addirittura, poiché aiuta ad asciugare il seppo in eccesso e donare la pelle mista giusto nella zona D e a riequilibrare la produzione di seppo. Senti com'è morbido il tatto, rapidissimo, il tuo suo office è proprio confortevole. Grazie. 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 Grazie a tutti. Tutti i trattamenti successivi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. faccio con l'olio questo me lo farò anche in casa è un ottimo modo per fare uno scrub naturale senza doverlo comprare anche per esempio viaggio condo perché tu porti giusto una postina di tè oppure anche la polvere di caffè aggiungi l'olio che così per stroccarti e ti passaggio il viso vedrai che fa un bellissimo affetto sulla pelle è un ottimo per ripienare un ottimo per ripienare ok A presto. Senti quanto è delicato e piacevole, oltretutto fa anche un buonissimo profumo. Grazie. 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 Lo scrub che ti ho fatto con questa spazzolina, il massaggiare di sorriso è molto rilassante, aiuta proprio a preparare la pelle perché stimola tantissimo la circolazione. Grazie. Con questo vado proprio a insistere sui bordi del viso che sono le zone che vengono sempre trascurate un po' di più. Grazie. 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 Senti come morbida la pelle, provo a toccarti. Sì, è cambiata completamente, basta pochissimo, però veramente ha risultato un po' di sesso Ora mettiamo il tonico che serve per equilibrare il pH della pelle per andare a idratare la pelle che viene seccata dall'acqua Vado a piquitare Alla prossima Facciamo un bel massaggio super interessante con questo olio che serve per illuminare il pH Alla prossima Alla prossima Alla prossima Ora respira profondamente e lentamente Fai altri tuoi respiri Ti vuoi respirare lentamente Alla prossima 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 Questo è un punto strategico dove fare digitopressione aiuta tantissimo a far passare un mal di testa o comunque anche a rilassarsi basta Alla prossima 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 Alla prossima